Tarocchi d'amore, quando l'amore si legge nelle carte. In questo video voglio spiegarti come si poter leggere, diciamo, i tarocchi nelle carte. I tarocchi d'amore, come possono essere letti nelle carte. Che qual è la simbologia delle carte per quanto riguarda i tarocchi, per quanto riguarda l'amore. Se io metto l'intenzione di fare una stesura di carte dei tarocchi per quanto riguarda l'amore. Ovviamente qua prendo in esame gli arcani maggiori. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai scegliere tra abbonamenti base e potrai anche scegliere l'abbonamento però Seminario Online. Che ti permetterà di partecipare ai miei seminari online. E vediamo che cosa sono i tarocchi, qual è il significato delle carte dei tarocchi nell'amore. Questo è fondamentale. Allora partiamo dall'arcano numero uno, il mago. Il mago è l'inizio, simboleggia il desiderio di iniziare una nuova relazione. Arcano numero due, la papessa. Simboleggia l'intuizione e la forza. Quindi la voglia, l'energia di avere una relazione emotivamente molto solida, molto forte. La possibilità di averla. L'arcano numero tre, l'imperatrice. Un'evoluzione materiale in una relazione, ma comunque positiva. L'arcano numero quattro, l'imperatore. E la voglia di avere una relazione stabile. L'arcano numero cinque, il papa. Il papa può rappresentare sia l'opportunità di una relazione spirituale, sia in alcuni casi potrebbe anche rappresentare una persona, diciamo, molto scaltra che possiamo incontrare. Beh, gli amanti indicano una passione molto forte, con possibilità anche però di tradimenti. L'arcano numero sette, il carro, diciamo il carro della vittoria, un'evoluzione positiva della relazione. L'arcano numero otto, la forza, rappresenta l'intensità elevata della relazione. L'arcano numero nove, l'eremita, è una carta che ti consiglia di guardare dentro di te, prima di prendere decisioni e quindi prima di fare scelte azzardate anche in una relazione sentimentale affettiva. L'arcano numero dieci, la ruota della fortuna, è una carta che ti sta dicendo che le cose andranno in modo positivo per te. L'arcano numero dieci, la giustizia, ti rassicura che, diciamo, sei ovviamente dritta, che, qua io parlo di carte che escono dritte, che riuscirai ad ottenere quello che è giusto per te. L'arcano numero dieci, l'appeso, ti sta dicendo che è una relazione un po' pesantuccia da vivere, non però impossibile. È però quel dolorino che ti porti sempre dietro. L'arcano numero tre, dice la morte, la morte prelude la rinascita, quindi il cambiamento, il cambiamento in un modo o nell'altro nella relazione. La temperanza, arcano numero quattordici, rappresenta la pazienza, se c'è dritto che devi avere, se c'è storta che stai perdendo tempo. Arcano numero quindici, il diavolo, il diavolo rappresenta un amore manipolativo, una persona manipolativa, gelosia, situazioni di possessività. Arcano numero sedici, la torre, indica che questa relazione finirà, devi cambiare. Arcano numero diciassette, le stelle, è una carta tendenzialmente positiva, che sta dicendo che quella relazione potrà avere una buona evoluzione. Arcano numero diciotto, la luna, ti sta dicendo che è una persona con la quale ti stai relazionando, è molto ambigua, di non fidarti troppo. Arcano numero diciannove, il sole, indica una relazione positiva, bella. E arcano numero venti, il giudizio, ti consiglia, suggerisce di liberarti dalle paure, liberarti dai giudizi e di portare avanti quello che tu credi. Arcano numero numero ventuno, il mondo, indica che è una relazione bella, potrà portare anche a una creazione della famiglia. E poi c'è il matto, o zero ventidue, che rappresenta una relazione aperta, una relazione dove tutto è possibile, non quindi prepararti agli imprevisti. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, tra cui l'abbonamento, abbonamenti base per partecipare alle live, e anche l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!